... Sono Charles Sims, sono venuto per quel lavoro. Chi è? Prima stava in un pensionato per le luci, ma lui lo odia. Se ne vuoi andare? Non ti impressionare, è mansueto come un agnellino. Che cosa muori? Come che cosa muo? Che cosa vuoi qui? Io voglio un lavoro. Non ti preoccupare, sono 300 dollari facili. Io non li sento tanto facili. Dammi l'uniforme blu, è in un sacco per abiti, Costanzino. Il più presto possibile, cioè a dire ieri. Dobbiamo andare da qualche parte? Toccami ancora e t'ammazzo. Sono io che tocca te. Qual è la destinazione? La destinazione è New York City. Grazie, Daphne. Dovere, signore. Come sapeva il nome? Io ne sento il profumo. Le donne. Le donne le piacciono proprio? Ah, al di sopra di ogni cosa. Colonello, io la accompagno a New York, ok? Sì. E poi la lascio e me ne torno indietro. Si può sapere che cos'hai? Ho un piccolo problema scuono tutto qui. Ti sei scopato la figlia del Presley? Sapone o gildesista? È impressionante. Beh, impressionare è il mio mestiere. Vuoi sapere la verità? Su, avanti, sentiamo l'oracolo. Era uno stronzo anche prima. E adesso è diventato uno stronzo cieco. Porta i saluti a casa. Ti auguro di fare un ottimo viaggio. Ma a te, Charlie, che te ne frega. Di che cosa? Cosa? Che io mi faccia saltare la cervella? Charlie sta passando un brutto weekend. È un po' in crisi. Non le sembra distrutto dalla crisi? Sta benissimo, secondo me. Ah, visto che le piace, Charlie. Che cosa può fare? Non so ancora se sparare o adottare. Che posto meraviglioso. Che posto meraviglioso.